Volevo sottolineare solo due punti in più. L'importanza della giornata dopo le polemiche che ci sono state riguardo a quello che stiamo facendo. Secondo me le polemiche hanno rafforzato la linea dell'amministrazione perché siamo convinti che alla fine i migliori giudici di quello che sta accadendo e i migliori controllori siate voi o siamo tutti noi che ci lavoriamo insieme. Quindi secondo me la giornata di oggi deve stabilire ancora una volta che le regole e quello che abbiamo lanciato è quanto dal punto di vista dei cittadini noi vogliamo e intendiamo come politica partecipata. La seconda è che abbiamo raccolto tante idee, voi sapete che esiste un diffuso scetticismo sulla capacità di alla fine convogliare questo consenso che c'è attorno alle cose che noi stiamo facendo in qualcosa di concreto. Bene, tutto quello che è stato raccolto in questi mesi verrà tradotto in questo documento, saranno più di cento pagine dove ci sarà una sintesi che alla fine noi dobbiamo fare, dobbiamo distillare, ma dove voi troverete il, come si dice, perfettamente rispecchiate le vostre idee. Ecco questo è l'altro punto di vera sfida, testimoniare che ormai i tempi sono maturi e che la partecipazione diffusa come quella che stiamo facendo non solo per il piano regolatore ma anche per i piani di zona, vedo persone in sala che hanno la pazienza di spendere il loro tempo sia sul fronte del piano regolatore che sui piani di zona, entrambi questi fronti sono stati caratterizzati da un livello di partecipazione reale che vogliamo continuare nel tempo, quindi anche il piano regolatore avrà fasi successive di coinvolgimento, di monitoraggio che consentirà a tutti noi, qualsiasi sia il nostro ruolo nel tempo, di vedere che cosa accadrà. Quindi lascio immediatamente la parola ai relatori, so che questa mattina ho visto una presentazione che mi ha veramente affascinato tra quelle che sono state mandate, le altre non ho fatto ancora in tempo a vederle intendo dire e so che sarà per tutti voi un momento di condivisione non solo delle idee ma anche di apprendimento perché alla fine siamo in una fase in cui tutti impariamo qualcosa in più. Ci diamo appuntamento oggi pomeriggio alle 16 dove a qualsiasi costo ci sarò e potremmo aggiungere e concludere questa giornata nel modo adeguato. Buon lavoro, spero di riuscire a vedere ancora qualcosa da qua e niente che il primo relatore si faccia avanti se questa è la scaletta.